Guanti invernali molto belli per bambini, tengono calde le mani, un bel regalo anche per Natale, con possibilità di scelta taglia, buona la qualità prezzo, in più è Prime, quest'anno fate questo regalo ai vostri figli, o ai figli dei vostri amici. Metto altri link di guanti per bambini, che tengono calde le mani, buona la qualità prezzo, vi lascio in descrizione video, il link affiliato Amazon.